Un elemento deflattivo del contenzioso giudiziale e in particolare delle esecuzioni immobiliari e mobiliari giudiziarie è rappresentato dai nuovi istituti che il legislatore ha introdotto in tema di garanzie reali, stabilendo non solo il pegno non possessorio, ma soprattutto il finanziamento alle imprese assistito da contratto sospensivamente condizionato. La qualcosa permetterà in futuro al creditore in presenza di inadempimento del debitore di procedere direttamente all'allenazione del bene immobile o del bene mobile, con ciò evitando le faragginose, lunghe e complicate procedure di carattere giudiziale. È infatti intuitivo che è più facile vendere in via stragiudiziale un bene che in via giudiziale. Grazie